NUVOLA TEL Non riesco a farlo funzionare. L'ho comprato solo la settimana scorsa. Sono nel pallone. Signore, parla di biliardo o di calcio? Tutti e due. Voglio dire nessuno dei due. Si parla del mio smartphone. Non si prende una buca qui. Buca? Che sport? Parla di biliardo o di golf? È golf. È golf, mannaggia. Ma non c'è nessuno lì che vada in porta. Porta? Che sport? Pronto? Pronto? Pronto. Grazie per aver chiamato NUVOLA TEL. Per favore, descriva brevemente il motivo della sua chiamata. Oh, era ora. Stavo cercando di far funzionare il mio nuovo telefono. Non riesce a connettersi. Mi hanno tirato una stecca. Per favore, mi dia qualche informazione più dettagliata sul suo problema. Beh, una settimana fa ho comprato questo nuovo smartphone e adesso non mi si connette al 4G. Capisco. Per favore, mi indichi marca e modello del suo smartphone. È un Samsung Galaxy Note 5. Le abbiamo appena inviato un SMS con le impostazioni corrette per l'accesso a Internet. Per favore, confermi direttamente le impostazioni. Fantastico. Ho appena accettato. Il suo problema è stato risolto. Possiamo aiutarla in qualche altro modo? No, va bene così. Grazie mille. Arrivederci. Hmm, però che macchina in gamba. Le macchine iniziano a capire i vostri clienti meglio dei vostri operatori. Chiamate Speech. È ora. Ho appena ascoltato.